Ok, let's go Che dire ragazzi, questa intro è veramente la più epica di sempre Io ringrazio tantissimo Enkrum per avermela fatta Iscrivetevi veramente al suo canale E questa la userò per sempre, d'ora in poi, veramente Ok ragazzi, quindi io ringrazio ancora tantissimo Enkrum per avermela fatta La musica Unity by Devatrat la troverete qui sotto in descrizione E veramente è fantastica, non ho altro da dire Da 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 da